salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ragazzi oggi alleneremo le gambe cominciamo con uno squat 4 serie per 5 ripetizioni faremo sempre 70 kg vediamo perché sono già pesanti vediamo se possiamo aumentare ma lo escludo comunque faremo queste quattro serie e ci speseremo però prima come sempre 59.90 kg grasso corporeo 13,3 rispetto alla scorsa volta abbiamo preso 0.55 kg 0.3 per cento di massa grassa in più sul peso siamo cominciati a risalire di nuovo sulla massa grassa più o meno è rimasta simile 0.3 per cento non è niente visto che quelle gambe sono così negato ho deciso di aumentare il peso di un chilo per lato ebbene 72 kg così almeno un minimo vendiamo cominciamo mettere un po di peso in più sennò qui non aumenteremo mai quattro serie di squat fatte ora passiamo al secondo esercizio che c'è il four legs ovvero la sete faremo anche qui quattro serie per un minuto speriamo di farcela perché ogni volta bellissima io sono sincero con voi alla quarta serie invece di un minuto faccio 50 secondi perché giuro cava per terra vedremo adesso di fare quattro serie per un minuto ma vabbè 10 riscontri alla fine non cambia quasi niente però vabbè partiamo con la prima serie va un minuto ma vabbè partiamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 4x10, 32 kg. 5x10, 32 kg. 3 serie per 12 punti di ripetizione. 5x10, 32 kg. E' bene ragazzi, addominali, primo esercizio faremo crunch con gambe alzate, 3 serie per 20 ripetizioni. Primo esercizio terminato. Adesso portiamo al secondo esercizio, laterale, sempre con la gamba usata. faremo 3 serie per 15 ripetizione. 5x10, 32 kg. Ragazzi, terza settimana di questo esercizio, ancora continuo a rotolare il dolore. i rotolamenti continuano, ragazzi. Un bruciore unico. non potete capire. Non potete capire, solo chi lo fa può capire, solo chi lo fa. Un bruciore incredibile. Ora, come ultimo esercizio, abbiamo leg raises da seduto, 3 serie per 20. allargamento terminato, morto. morto, vi giuro. Sono distrutto, non ce la faccio più. Le gambe oggi sono state un pochino dure, quale squat. Ho fatto 4 serie per 5. Le ho fatte tutte le serie con 72 kg. E lì mi sono distrutto. Poi ho fatto anche la sedia, la chair for legs. Le ho fatte tutte, 3, 4 serie, quante erano? tutte le ho fatte con un minuto. Non ho scalato nemmeno di un sacconto questa volta. E ragazzi, si sente. Ecco, la stanchezza oggi c'è. Io vi lascio al check fisico e noi ci vediamo con il prossimo episodio. Ciao! 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 Ciao!